Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cosmocrats, un gioco presente su Steam dal 5 di novembre, costa 11,99€ ed è un gioco dove faremo parte della storia russa, dove lo definisco dissacrante come tipo di gioco, ma adesso lo andremo a vedere. Si può giocare in varie difficoltà, ma al momento solo normale, non difficile, solo facile o normale. Si arriverà anche a poterlo giocare in realistico, cioè a livello di fisica, però adesso poi capirete che cosa intendo perché ci sono appunto delle annotazioni da fare. Qua vedete che, adesso si vede questa trasmissione con l'esercito russo, insomma la costruzione di quella capsula, quella capsula la useremo noi. Vedete che la stanno trasportando, adesso la caricheranno sul razzo e la manderanno nello spazio. Russo, poi in realtà di grossi simboli russi non ne ho visti, però diciamo che fa ampiamente intendere che il gioco è ambientato lì. Tutto in questo stile visivo, un po' di vecchi televisori. Eccolo qua, Ignition and Liftoff. E si parte. Ovviamente qua siamo dei cosmonauti, non degli astronauti, come venivano definiti gli uomini dello spazio russi. Anche il tipo di razzo è di fattura russa, si vede anche come forma, questa presenza proprio di similtralici all'interno della struttura. Ok, e si va. Sarà una sorta di puzzle game, adesso io vi tengo un pochino così all'oscuro, ma a breve scopriremo esattamente di che cosa si tratta questo titolo. Ok, stiamo facendo un indispensabile compito. Stiamo pelando patate. E' molto... Comrade, sei stato riassignato. Vai alla stanza 237. La camera di Shining. Eccola lì la nostra capsula. Vi dico la verità, non è... non dà l'impressione di essere proprio leggerissimo, ma è molto strana come cosa, penso sia una mancata ottimizzazione, ma non lo so, questo stile è un po' così traballante, ma adesso inizia a diventare un pelino più fluido, però... ok. Ok. Ok, siamo sul nostro computer. Hai avuto esperienze di pelaggio patate, eh? Non è così? Va bene. Ci muoviamo con... il gioco è fortemente consigliato con il pad. E... però va bene. Adesso ci proviamo con la tastiera che si giocherà con le frecce direzionali, il tasto A e il tasto control. Quindi lo... lo andiamo a provare. No, il tasto control e le frecce. Playdown Simulator, yes! Ok, perfetto. Inizieremo a fare il tutorial di questo gioco, così andrete anche a capire se questo puzzle game può piacervi. Perché è davvero... davvero interessante. Usa... ok, vedete che qua stiamo solo simulando. Ci si muove con le frecce direzionali. Ovviamente vedete che poi, una volta che finiamo di premere la direzione, lui si ferma. E nel gioco sarà così. Fino a quando non sbloccheremo il livello della fisica realistica, dove ogni direzione sarà definitiva. Quindi, di qua andremo per sempre in quella direzione lì. Ok, raggiungiamo schivando il bersagno. Ok. Sì, vabbè, questo è tutto molto... tutto molto semplice. Quindi direi che... Si sente proprio anche il rumore degli RCS che ci spostano, ma... Sì, direi che siamo dei... ci abbiamo fatto, insomma. Ora inizieremo a fare delle cose un pochino più complicate, perché... Ed è quello che poi faremo in gioco, perché costruiremo, assembleremo stazioni spaziali e dovremmo andare a spingere i vari moduli con i vari agganci. Adesso mi sta riuscendo anche discretamente bene, devo dire. E me la sto cavando. Perfetto. Molto bene. Va bene. Eccolo qua. Vedete che ora dobbiamo riuscire a collegare ogni blocco col suo attacco. Vedete che in questo caso è tutto stato fatto. E ora dobbiamo andare invece a spingere quest'altro modulo dove c'è l'altro aggancio dall'altra parte. E devo dire che... Anche senza il joystick si lascia giocare, eh. Doh. E sono stato... Ok. Direi che sono molto bravo. Ma non è così la grafica, e ve lo dico, è solo un tutorial questo, non fatevi ingannare. Ah, devi usare l'abilità di tirare. Infatti... Vedete che tenendo premuto il tasto control, io vado a tirare. E ovviamente qua è un puzzle molto semplice perché devo andare qui, mollarlo, e poi andarlo a riprendere da questa parte. Quindi direi che ce la stiamo cavando egregiamente. Tenendo premuto vedete che tira questo... Questa cosa. Questa struttura qui. Non possiamo... Dobbiamo mollarla adesso per forza di cose. Fare il giro e poi andare di qua. Ora, concluso questo tutorial, inizieremo la nostra vera e propria avventura. Dove avremo missioni anche a tempo. Dove dovremo salvare vite, insomma. È un gioco parecchio curioso. È anche originale, devo dire. Eccolo qua. Questa sarà effettivamente una vera simulazione di quello che faremo. Cioè, in questo caso, andare a potenziare tutti i moduli. In questo caso io voglio trascinarla. Non me la trascina? Me la trascina solo da questo lato qua. Quindi mi sa che dovrò tirarla da qui. Sì, infatti. Si trascina solo da quei attacchi lì. Ok. No, 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 no. E vedete, queste poi sono le difficoltà. Qui ci troveremo contro. Ok. Adesso me la metto così. Quindi direi che, in questo caso, la spingiamo giù. E direi che così è agganciata. Poi, dovremmo agganciare anche questa. Andiamo a spintarela in questo modo. Eh, no. Di qua. Ok. Poi, diciamo che qua, invece, io spingo di là l'intera stazione. E poi gli do una spinta giù. Così, almeno, lo agganciamo più agilmente. Adesso spinta in avanti. Di questo. E ok. E abbiamo fatto. E ora manca l'ultimo. L'ultimo pezzo. Però, ecco, non fatevi ingannare. Perché, alla fine, questa è solo una simulazione. La grafica del gioco, in realtà. È tutta altra cosa. E lo vedrete più avanti nel video. Ok. Abbiamo completato la nostra... Siamo stati impressionati per qualcuno che spende tutto il tempo, tutto il giorno. Passa tutto il giorno a pelare patate. Va bene. Start mission. Ok. Qua vedete che abbiamo ancora il monitor bloccato. Ok. Ci connettiamo. Sta scaricando i piani. Sì, pronto. Perfetto. Andiamo. Ecco, questa è la realtà, invece. Non è più una simulazione. E qua si vanno a fare le varie missioni. Ok. Questa è la capsula. Quella che abbiamo visto prima nel video. E dobbiamo assemblare la stazione. Guardate. Graficamente è molto carino. Ovviamente, come vi dicevo, non c'è la fisica. Perché vedete che qua lo spingo, poi dopo un po' si ferma. In realtà dovrebbe procedere, diciamo, all'infinito. Nel senso che, non essendoci attrito, ma quello poi lo si sbloccherà nell'altra modalità. Quella che sbloccheremo. Non so ancora come. Poi qua non abbiamo i limiti dello schermo, ma in pratica abbiamo tutto lo spazio e l'esposizione. Cosa che non ha molto senso. Allora, muoverci, diciamo, spararla chissà dove. Lì sotto c'è la terra. La terra è molto importante perché ci manderà anche dei fornimenti. Insomma, ogni missione sarà varia. Sarà fatta a modo suo. E andremo a vedere magari se riusciamo a fare qualcosa. Per un gioco che si presta molto anche per un eventuale live. Vedete che intanto c'è già qualcosa che mi fa capire che stiamo andando discretamente male. Adesso gli do una spinta. Uh, mi scusi, ho danneggiato il pannello. Mi scusi, perdoni. Perdoni. Con fratelli e russi. Scusate. Ma, scusate. Ok, collegato. Perfetto. Vedete che qua abbiamo tutto quello che abbiamo collegato. L'abbiamo fatto anche in un buon tempo. Non troppo male, vedete. Consumo di patate giornaliero, ok. Abbiamo anche il numero di uomini. Abbiamo un totale di risorse che bisogna mantenere. E abbiamo mangiato. In questo caso poi dovremo aspettare le... Presumo le scorte, insomma. Andiamo con un'altra missione perché mi sta prendendo. Poi il gioco io l'avevo già visto, quindi... All'inizio ero un po' perplesso, ma poi dopo averlo visto ho detto Cavoli, ma è geniale, è carino. Allora, le forze spaziali stanno cambiando il mondo oggi. Stanno riprendendo il primo uomo che cammina nello spazio. Yuri Gagarin. Non interferire col broadcast. Ah, ok. Abbastanza fragile. Ah, qui viene. Dobri dia, Yuri. Yuri è lui. È Yuri. Però c'è fuori un altro uomo che lo sta riprendendo. Sì, sono già fuori a riprenderlo tutti e due. I due tizi fuori riprendono il primo uomo nello spazio. È eccezionale. Non uccidere Yuri. Ma come faccio? Non mi fa ancora muovere nulla. Ah, vedete qua in alto a sinistra? Adesso l'ho concentrato sotto. C'è la registrazione di quello che sta riprendendo, ma... Eh, non interferire, ma non posso... Ah, eccomi qua. Ah, non devo farmi vedere. Non devo farmi vedere nelle riprese del primo uomo nello spazio e non uccidere Yuri Gagarin. Quindi, io adesso non mi faccio vedere. Io vi assemblo la stazione perché bisogna ottimizzare i tempi nello spazio, giustamente. Quindi, adesso, scusate. Scusate. Adesso. Ok. Mentre Yuri si fa la sua prima passeggiata spaziale ripresa dai due tizi fuori, che sono usciti ben prima di lui, però va bene. Quello che volevo dire. Io intanto gli assemblo la base, la stazione. Non devo ucciderlo, quindi devo assolutamente tenere lontano da lui e non entrare nelle riprese. È un obiettivo opzionale, ma ci darei tanto a non... Ah, scusi, scusi, scusi. Adesso noi qua abbiamo un lavoretto da fare. Scusate, adesso che spingo dentro. Ok, perfetto. Questo potrebbe essere un problema perché... No, passiamo dietro le telecamere, quindi non dovremmo interrompere lo show della nostra star. Ah, no, là c'è uno e il microfono. Veramente ridicola sta cosa bellissima, il microfono nello spazio. No, è geniale. Geniale. Questo gioco qua mi aveva incuriosito come immagini. Quelle foto che avevo visto. Poi un po' meno, fino a quando non l'ho provato, non l'ho visto prima, visto, poi provato. E devo dire che è veramente... Allora, non costa poco perché sono 12 euro, però diciamo che è rilassante. Fa andare la mente. E... È fatto bene. Questo senza dubbio. Ok, dai che forse ce la facciamo. Allora, una spintarella per così. Non eccessiva. Bravi. Fantastico. Non abbiamo ucciso Yuri. Non abbiamo interferito... Vedete i cosmonauti? Non ne abbiamo perso nessuno. E... L'abbiamo fatta... Si poteva fare meglio. Risultato comunque eccellente, quindi... E poi si va avanti con la storia. Insomma, abbiamo mangiato altre due patate. Quindi, abbiamo ancora parecchi uomini, però, che poi potremo fallire, sprecare, diciamo, le risorse che abbiamo. Io spero mi vogliano portare delle patate, poi dopo un po' me le manderanno dalla madre patria russa... Russia? Potata. Vabbè. Eccolo lì. È quello il primo uomo nello spazio. E Yuri, ciao. Che guarda la testa di 360 gradi. Magari poi, forse, sullo sfondo si vedeva... Si vedeva anche la mia navicella. No, vabbè. Salve. Sai che cosa, appellatore di patate? Non sei un fantastico pilota. Ma... Vai bene. Sei abbastanza buono. Molti piloti parlano troppo. Leggi il giornale o qualcosa? Sì. Ah, vabbè. Sì, leggo il giornale. Ah, ok. Fammi vedere il giornale, cosa dicono. Allora. L'Unione celebra il primo uomo nello spazio. Ok. Giorno per l'Unione. Poi scritto tutto in cirillico. Look out the window. Ok. Guardiamo fuori dalla finestra anche. Dov'è la finestra? Eccola lì. Look out. Vediamo cosa c'è fuori. Ah, quella che abbiamo costruito. Bene. Check the medal case. Quindi dobbiamo controllare anche la bacheca delle medaglie. Che non so dove sia. Lì si può indossare la maschera. Medaglie. Eccole. Potato pilot. Completato le prime due. Va bene. Abbiamo fatto quello che c'è da fare. Mi chiedo. Put maschera. Che cosa servirà? Ma io non me lo fa più selezionare. Mannaggia. Dobbiamo parlare con il tizio qua. Adesso riattiverò la comunicazione. Bene. Ti trarremo per ora. Fino a quando il vero pilota dei droni arriverà. Forse tre missioni ancora. Ok. Start mission. Mi pare che adesso poi ci sia una missione di quelle abbastanza importante. La rumore della connessione. 56k. Si procede avanti con questa storia che poi non è così eccezionale. Cioè eccezionale. Non che non sia bella ma è un modo per collegare una missione all'altra. Mi ricordo che c'era anche una missione. Adesso non mi ricordo quando è. Di quando mandano ai fondimenti da terra. Delle capsule. E ovviamente non riusciamo a salvarle tutte. E quindi. E quindi tanti cosmonauti vanno persi. Quindi dovremmo recuperare il più possibile per portare i rifornimenti sulla stazione. Quando magari finiremo diciamo per finire gli uomini o le patate. Insomma dovremmo fare attenzione. E prenderne il più possibile per poter continuare la nostra avventura. Adesso io non ho capito cosa devo fare qua. Devo stare attento a non uccidere quel tizio lì. Beh intanto io inizio anche a collegare questi due qua che. Ok. Ma è ancora Yui quello lì. Stare attento a non... Ho visto che lui ha detto di non rovinargli la cena. Però. Non voglio rovinargli anche il pannello solare qua. Devo ruotare questo. Con molta calma. Spingo il pannello ma senza... Con cautela ecco. No time for caution. Eccolo lì. Così. Eh si è già rovinato. Si è rovinato. Si è rovinato signori. Si è rovinato. Va bene dai. Ci sto mettendo un po' troppo. Vedete in alto il timer. Ok abbiamo fatto. Mo lo spingiamo via. Perché voglio fare spazio. Ok. E adesso dobbiamo spingere questo. Eh non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Allora. Questo va spinto di là. E poi. Eccolo lì. Allora. Raccomandano fortemente il pad. Ma in realtà. Io vi dico la verità. Non mi sto trovando malaccio. Ecco la tastiera. Ma stai via. Cosa fai lì? Ok. Ok. Ok stanno facendo. Bellissime anche questi suoni radio. Ma scusa. Puoi spostarti. Devo andare a collegare sto modulo. qua. E devo farlo. Losing orbit. Eh. Devo muovermi. Perché stiamo perdendo l'orbita. Mannaggia. Mannaggia. Dai. Date una mossa. Ok. Connesso. Merda. Dobbiamo collegare. Dobbiamo collegare questo. Velocemente. Perché stiamo perdendo l'orbita. Stiamo finendo sulla terra. Ok. Dai. Dovremmo farcela. Dai. Connega. Una spintarella. Perfetto. Dai. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tutti i cosmonauti. Abbiamo tutte le estensioni. Abbiamo la potenza giusta. Stavamo per lasciarci le penne. Però avete visto che iniziava a andare in pezzi. Per l'arrivo dell'atmosfera. E' stata giunta la fame. Quindi in pratica adesso abbiamo finito le patate. Stiamo finendo le patate. Diciamo che tra emissioni le possiamo ancora fare. Se continua a consumarne due a missione. Quindi avremo bisogno di un rifornimento. E di qualcuno appunto che ce le mandi. I nostri ingegneri stanno spegnendo i nostri sistemi di uso e diari. Potenza extra per guardare la sfida Mosca Rostov. Se tu capisci. Ti lascio scegliere. Ah. Posso fare. Salviamo un po' di produzione. Tempo di produzione. Saltando la pittura sulle navi. Oppure l'orbita è instabile. Aumenta le turbolenze. Quando l'orbita è persa. Posso scegliere una di queste due cose che mi capitano. No. Voglio fare più produzione senza niente di pitturato sulla nave. Mi sembra un po' più... Diciamo... Ok. Avrai accesso completo al sistema di droni. Non farmene pentire. Ok? Ok. Si è pentito del suo secondo matrimonio. Questo è il sistema di status. Insomma. Puoi controllare come cosa sta succedendo. Tieni sempre un occhio su questo schermo. Torno al lavoro. Va bene. Ok. Ok. Qua abbiamo un'altra missione da fare. Quindi diventa molto interessante. Possiamo anche giocare un gioco. Che cos'è? Tutorial. Ah no. Ok. Via. 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 Che il tutorial non voglio neanche vedere in fotografia. Wear a mask. Perché? Ah. Qualora avessimo dei problemi all'interno della nave. Qualche danneggiamento. Quindi c'è anche una sorta di... Diciamo parte manageriale. C'è anche la stampante a wookie. Con tutto quello che è successo settimana per settimana. Non ci sono eroi. Qua schermo. Anche il livello del... Dell'ossigeno. È divertente perché è vero. Ok. Allora ragazzi. Io penso che lasciarvi in questo momento sia la cosa più bella da fare. Nel senso che vi lascio un pochino con l'acquolina. Perché secondo me questo è un gran gioco. È comprensibilissimo anche in inglese. Poi magari lo tradurranno. Non sono questi grandi testi. Ovviamente quando parlavano veloce ho fatto un po' fatica. Però alla fine il senso si capisce. Leggiamo il giornale se è successo qualcos'altro. Nuovo comandante. Prende il comando. Si è preparato con la carta igienica. E potassio. Io odio insomma. Vabbè quello che è. Va bene ragazzi. Allora. In che anni siamo? Nel 60? A direi perché... No. 80. 1980. Va bene. Va bene. Va bene. Allora ragazzi. Questo era Cosmocats. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo nel prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao.